Oh, ti piace la mia bambola? Ah, è bellissimo. Tesoro, vieni qui, vieni. È Andreina, la nostra bambina. Lei si è ritirata dalla politica attiva? Per forza, sono una straniera, non posso fare politica come una cittadina italiana e devo guadagnarmi da vivere, per me e per lei. E lei crede che le sarà facile fare il medico in questo paese? No, so bene cosa vuol dire in Italia, essere una donna e fare un mestiere da uomo, ma io ci devo riuscire.